Passiamo ai carri allegorici di categoria A, qui partiamo dal quinto posto, quinto classificato con 341 voti, al quinto posto, Porta Torino. Salutiamo Porta Torino, salutiamo l'inglesina, passiamo al quarto classificato, al quarto posto, con 351 voti, quarto classificato, Rione Cappuccini. Viene premiato la professora Carolina Ficcioli. Confidenti agli amici dei Cappuccini, anche loro si prodigano sempre un grandissimo carnevale anche loro. Grazie a voi, grazie a Porta Torino, grazie a Cappuccini, siete splendidi. Terzo classificato, con 383 voti, al terzo posto, saldicero, calmo, terzo classificato, Bruffon. Treia, il filetto della provincia, adesso lo do ero. Grandi anche gli amici del Bruffon, Conte Fiderito e Contessa Rosina. Sul secondo gradino del podio, quindi al secondo posto, e adesso qui bisogna un attimino che la trasferta cresca, perché qui ormai sono rimasti due carri in gara, quindi con 393 voti. Al secondo posto, ragazzi, al secondo posto, Calesana Black. Grazie. 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 Ragazzi. Ragazzi. Abbiamo unito. Numero uno. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ero il modo migliore per cui potessi portare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a Silviano. Non ce n'è per nessuno. Grazie a Silviano. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. I gruppi e i carri hanno partecipato. dispiore. Allora. Di reppresentanti. Andiamoci. Grazie. 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 Grazie a tutti voi. Vi ricordo ancora che il Carnevale di noi e delle qui. Martedì prossimo. All'Isola avremo l'ultima salta. Io ringrazio ancora di cui voi tutti i colori che hanno partecipato attivamente al Carnevale. Tutti provo che hanno partecipato i carrizi, i figuranti, voi che si portate con il pubblico, questa è la visione di un'autorità. E grazie al Comitato Manifestazioni Garcellesi, da Torino, bellissima manifestazione. Io ringrazio in modo particolare il Comitato Manifestazioni Garcellesi perché mi dà sempre modo, da quando cominci il carrizo, dal 5 gennaio fino a questa serata, di essere qui con voi e di avere questo passore del comando in mano. Io sono uno di quelli che si diverte di più e lo devo al Comitato Manifestazioni Garcellesi, quindi un grazie a tutti voi. Buon carrivale, buon proseguimento di serata a tutti, grazie, ciao!